Sono Fabio Concezzi, amministratore della International System. Siamo qua al CIEC 2013, dove per la prima volta partecipiamo, essendo come azienda da poco iscritti dallo SCREOX su un mese di novembre. Presentiamo le due gambe di prodotti AMX e Philips Danite, con le loro interfacce utenti sia dell'una che dell'altra, quindi i nuovi Modego X e i nuovi tastierini Antumba. Siamo soddisfatti dell'evento che ci ha concesso di incontrare i nostri clienti, soprattutto dell'Aio Lombardia, e forti del fatto che dal primo novembre Intermax Sistemi, azienda di Roma, ha anche una sede qua a Milano. Troviamo che gli integratori di sistemi venuti all'evento sono rimasti soddisfatti di questa iniziativa e quindi ci auguriamo un CIEC il prossimo anno con ancora maggiore affluenza insieme al gioco successo di prodotti.